Musica 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 Per arrivare Sul parlare Fiumi Ma abbiamo bisogno Ma! Non sono! Musica 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 Abbiamo bisogno di comprare qualcosa cosa c'è? cosa sarà stando via? e ora... ma... anche la suonità la professori è stata risultata la luponeana ma ci sono dei punti tanto che sono accettato con i commenti perché è stato succeduto proprio il foto ci sono risultati ragazzi non ho fatto niente proviamo a riattivare la musica ok 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 cos'è questo posto? questo posto? ok mettiamolo i roleplay il panocchiere il pizzaiolo e il mancoso ma ragazzi adesso mi risucchiano di nuovo no ci sta ragazzi si è fatto a voi l'aggiornamento io sono qui bloccata così stai ragazzi un minuto di nuovo video io sono Mary e oggi giochiamo ad adottami con me come vedete ci sta Dalila che mi salta in testa saluta ciao ci sta Alexio un mio amico di scuola chi sta sherry ciao la andrea e la nostra amica elly che non sei e che lo è stai registrando anche tu? si so si vede nel canale di Dalila non mi ricordo il nome ma iscrivetevi Chic7 perché ha perso uno quindi non so l'altro come l'ha chiamato allora ragazzi lo chiamerò devo ancora devo ancora la vedere allora ragazzi oggi registriamo l'aggiornamento di adottimi praticamente sono uscite delle nuove cose io sono veri perché io le ho già registrato allora dopo che il mondo ci ha risucchiato il mondo di adottimi è cambiato se vediamo qui ci sono due nuove strutture tipo lavoro che sono usciti il role play giusto? è nulla che parliamo con il nostro amico Sassin perché non capisco l'inglese quindi non so cosa dice non sta a posto se adesso noi andiamo a provare se proviamo ad andare qui sopra la pizzeria sto controllando un po' la situazione allora proviamo a entrare fortunatamente finalmente hanno cambiato questa pizzeria perché solo faceva un cacchio la pizzeria allora lavoriamo come pizzeria ma cos'è? possiamo mettere un vuoto? no è da qua è di là è qua dove si lavora lo so comunque hanno detto che se hai fatto a zero per sonnanzo non va via il petto ah meno male allora possiamo lavorare in pizzeria? quasi c'è anche la soda wow finco il japan egg oh il japan egg rosa japan egg japan egg japan egg allora io voglio fare la pizzaiola aspetta vediamo qui ah no già ci sta notizia non posso esserlo vediamo sì sono diventata posso pagare il manager posso pagare a i lavoratori ma ragazzi proviamo no sono io non posso provo a pagarvi dalila no proviamo a pagare a valerio posso pagare a valerio valerio posso pagarti fermi ma i tuoi soldi più figlio non lo so come funziona non tanto voglio sbattare vorrei arrivare non posso pagare a valerio come fa come funziona bravo tu lavora brava lava terra bravizzi però dopo mi paghi come faccio a pagarti non so come funziona no mi paghi con la casa cosa è sta cosa ecco dalila si posso darti un bonus di 10 che è successo vedo tutto oh dio sei arrivati un bonus no ragazzi è tutto strano ma tutto è scoperta no no nel senso questo ogni 30 secondi posso dare un bonus ogni 30 secondi posso dare un bonus nel mio petto vuole fare no non ho sentito cosa avevi detto non c'è bisogno ripetere no cancella quella parte del video ma io ancora ho sentito dopo lo sentirei nel video ecco tu la devi cancellare omaggio oh ragazzi ci sono le carote si ci sono allora non hanno pomodori pomito poi rimangono nel food eh si no no ci sono no 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 allora ok chi lo voglio preparare una pizza facciamo l'ordine Mary dammi i soldi e io ti faccio le pizze me già ti ho pagata zia vai ecco do il mod master do un bonus a lei hai dato i bucks i bucks no non penso cacchio chiedemi i bucks infatti ecco comunque ragazzi ogni non so quanto mi danno dei soldi per il lavoro che fai buono questa cos'è ma hai visto che ci sono pure le macchine a fianco anche le macchine di servire ma io adesso sono ma ci sono gli animali che vabbè ragazzi allora andiamo via da qui proviamo nell'altro salone ecco ma il tuo tumbo è nero perché l'hai fatto nero ma il tuo tumbo è nero Quante persone si possono tagliare i capelli? No, vabbè, poi se li voglio te Cioè, ora che sei venuto qua, il mio pet non deve fare la missione, no, dai Ah, sei già entrato in moda Allora, voglio fare il mio leopardino No, devo prima prendere la missione Cioè, prima devo mettermi questo 15 minuti Ok, metto il mio leopardino qui sopra Prendiamo un colore Io voglio tipo azzurro Io voglio fare Ti levi davanti Che carino Azzurro e poi Bianco, no ragazzi Bianco e azzurro Siamo chiusi No ragazzi, è stupendo Guardate che bello Ma come si vanno oggi? Proprio, tra poco È bellissimo Ok, questo è tutto Poi potete fare tante altre cose Tagliare non so cosa Ok, andiamo a vedere se ci sono altre novità Quindi ogni volta che ci saranno nuove missioni E dovremo portare i pet E dovremo portare i pet non solo a scuola In queste altre cose Ecco, andiamo a vedere il campeggio Che ho saputo che hanno inserito Hanno aggiunto le docce nel campeggio Le docce Sì, hanno messo le docce nel campeggio Sì, dico Brava Hanno aggiunto le docce Devo correre qua Devo mettere un po' lì Brava E così non si può andare più a casa Ma così Eh, così perdono Le persone non comprano più le porte Brava Ma la cosa è che hanno messo Le limonate gratis nella pizzeria Quindi adesso lo stand non fa più niente Vabbè, vai a venire fino alla pizzeria Ecco le docce qui, raga Che bella Tu le provi? Alex, te l'hai già spottato Mentre stiamo nella docce No, che bello Ma che sorruga Questa colore Vero? Non ho capito Guarda il mio liapardo Che bello Ah, la mia liapardo è quella docce Facciamolo qua Ragazzi, volevo ringraziarvi per i 500 iscritti Stiamo volando verso i 600 Sì, lo vorrei fare Ma non so cosa dare Non ce l'ho Ah, dove lo prendo? Non ce l'ho manco io Leville Facciamo una cosa Potrei regalarvi il Woodland Un deck Che è andato via Sì Sì Allora, se ne ce l'hai fa Va bene, fai il giveaway ora Facciamo il giveaway ora? Ho vinto io Ho vinto Genoveppo Aspetta, facciamo un attimo Facciamo Aspettiamo il giorno Andiamo al centro Proverò Voglio provare Prima a scambiarlo Scambiare un egg Vediamo Aspetta, aspetta Allora Scambiare insieme Vediamo chi riesce a scambiarlo Sì Voglio scambiarlo Quello che riusciamo ad ottenere Lo regaliamo Quello deve essere Offline o Ride Perché non ha senso Dare Andiamo al centro Scusa, non devi fare la doccia Al centro non c'è nessuno Ormai sono tutti A fare le missioni Mi hanno tritato Ah sì Allora io metto Egg Tu scambia quello No, ho sbagliato l'altro Aspetta Su chi scambia No Aspetta Scambiare un egg Ok, aspettiamo Speriamo scambiare questo Già mi è arrivato No Aspetta Però Scambiare il Retired egg Eh? Il Retired egg Il Retired Questo è il Retired egg Ah, l'aspetto Ah, sì, sì E su Rindai Eh, ma nessuno lo vuole quello Proviamo Ma poi non c'è nessuno in questo server Non c'è nessuno Trade Retired Ecco Vediamo chi vince Allora ragazzi Scrivetemi In caso non riesco a tradare Scrivetemi sotto nei commenti Quale regalo vorrete Con i miei vini L'Uretired egg O il Woodland egg Ah Che vedete sotto nei commenti Che vedete sotto nei commenti Dalila Cresci Pesta Mary No Vedi che io sono paura Sì Eh? Oggi sono vestita Ma non me la voglio Oggi sono vestita Da ranocchietta Posso offrire? Signore Posso offrire? Ad Alessio stai dicendo Qua non c'è niente Un amico Bellissimo Perciò è lei Allora ti faccio Ok ragazzi Vorrei salutare Le fan Che Saluto Le fan Allora saluto Il mio topolino E non so se Cookie Frog È una fan Mi pare che Adesso compriano Che è arrivata Ok questo è tutto Ok questo è tutto Le saluto A queste persone Che sono qui Che sono entrate Qui Nel mio server Ma ragazzi Devo dirvi Che ho aperto Il mio profilo Ho messo il link Nel mio server Così se qualche volta Vete giocare con me Entrate E io te lo vedo dentro E io ho già Lo faccio a voi Ragazzi Non può Mi dispiace Non posso Cioè Non posso accettare La vostra Friends La vostra amicia Non Siete in tantissimi Mi dispiace Poi accettare A uno E poi Gli altri no C'è davvero Tanti 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 Davvero tantissimi Richieste di amicizia Accetto solo Le persone più vicine Comunque Ogni tanto C'è il join Aperto Poi ho aperto Anche il server Quindi potete giocare Con me Quando volete Ragazzi Per partecipare A giveaway Per vincere Il bootland egg Oppure Reteare il egg Iscrivetelo Voi sotto Nei commenti Quali volete Ma ritai Il egg L'hai già fatto No nessuno vuole niente Non mi danno niente Mary Mi vuoi fare le regole L'hai già fatto Sì Già l'ho fatto Allora Adesso vi dirò Delle regole Per partecipare Al giveaway Dovete Iscrivetevi Iscrivetevi Al mio canale Essere iscritti Al mio canale Lasciare un mi piace E scrivere sotto Scrivere sotto Nei commenti Sannini 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 Parteciperò Per il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Tappate la campanella E lasciate tanti like Al prossimo video Bella Zietti Ciao 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 Ciao